È una manifestazione che vede la Sicilia capitale del Mediterraneo, ci saranno oltre 50 delegazioni di paesi del bacino del Mediterraneo e quindi è per davvero una grande manifestazione di un mondo globale. Mazzara del Vallo è la capitale di una integrazione, di una località, di un luogo che storicamente è un luogo di integrazione e credo che potrà essere un'occasione per le nostre imprese di internazionalizzarsi, di avere fattori di sviluppo e di esportazione dei propri prodotti. Il distretto della Pesca ha oggi 102 imprese che la costituiscono, 60 sono nuove, 78 sono del settore food, il 10% in più rispetto al 2011, aumentato il fatturato. Insomma il distretto della Pesca è un sistema che mette insieme aziende che si occupano di catturare il pesce ma assieme a quella della trasformazione, della commercializzazione è un modo intelligente di organizzare la filiera. Quest'anno Blue Sea Land è anche una manifestazione food saving, cioè contro lo spreco alimentare. Banco Alimentare promuoverà azioni di recupero del cibo avanzato durante i quattro giorni della manifestazione e quest'anno anche due novità da Guinness dei Primati. La novità più significativa è che questo concorso internazionale, 50 maestri pasticceri e 50 panificatori di tutti i paesi del Mediterraneo concorreranno a costruire la cubaida più lunga del mondo, quindi un Guinness dei Primati, e il pane consato più lungo del mondo. La cubaida e il pane consato rappresentano i prodotti e la cultura mediterranea ma soprattutto mettono al centro la Sicilia. La regione siciliana sta facendo un enorme sforzo di valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e anche del settore della pesca. Nel pane consato vi ricordo che ci sono le acciughe, ci sono le sardine, non c'è solo il buon olio, le buone farine e quindi queste miscele, questi grani antichi, questa riscoperta dei grani dei paesi del bacino del Mediterraneo. La Sicilia è una culla importantissima di valorizzazione, quindi sta al centro di questo hub mediterraneo. È fuori dubbio che l'incontro di tutti questi paesi del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente rappresentano non soltanto un momento di valorizzazione del cibo, della gastronomia e quest'anno Blue Zealand è dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Insieme alla regione stiamo facendo uno sforzo importante con altri partner, il banco alimentare, molte associazioni benefiche, il no profit, le proloco, tutti i distretti, le filiere, gli istituti, l'istituto della vita del vino, l'istituto dell'olio, tante istituzioni che partecipano insieme per mettere al centro una Sicilia che ce la può fare, che può diventare esempio per tutti i paesi del Mediterraneo e dell'Africa.